Bella a tutti gente, benvenuti nel mio nuovissimo video, si fa molto caldo qui. Sono dimenticato di accendere il ventilatore. Vabbè oggi voglio dire che domani è grande, non è giovedì, oltre ad esserci in Coca-Cola Summer Festival ci sono io, il mio TV show è in onda domani su YouTube, più tardi verso le 7 e 19. Ecco, io ci tengo e voi lo sappiate, voi mi guardate, io senza di voi inserire niente. Quindi io li amo, li amo tutti uomini, maschi, femmini, tucani, gatti, pesci, porcospini, tutti. Vabbè, io vi dico pertanto che domani ci sarà una grande star qui in seduta, domani sarà qui vicino a me la grande star che ieri ha fatto il suo grande show e quindi noi ci vediamo domani con il TV show. E' bella e io prossimamente ci sarà Stefano Sazza e anche il tuo figlio, anche Blue Moon, anche Upside Down, ci saranno un po' di gente. e quindi non ci sarà un po' di gente. E quindi non ci sarà un po' di gente. Quindi ecco, ci siamo domani con il TV show. Ciao! Bella zio! Ciao!